Buongiorno a tutti, sono venuto questa mattina a vedere come procedono i lavori di realizzazione del parco in via Ruggeri da Stabello, è il parco che il quartiere di Valtesse attende da molti anni e anche se attualmente vedete c'è molta terra, nel giro di meno di un mese e mezzo il parco sarà pronto, mancano le panchine, le fontanelle, gli arredi, però la zona dedicata ai giochi dei bambini è già pronta, qui alle mie spalle c'è un'arena che sarà un po' anche il luogo di ritrovo di questo quartiere che manca di una vera piazza, è il frutto di una progettazione condotta insieme ai cittadini di questo quartiere attraverso la rete sociale, quindi abbiamo cercato di dare il massimo del riscontro alle richieste e alle aspettative dei cittadini. Torneremo qui, ripeto, per l'inaugurazione che sarà fatta a Lea Garofalo, testimone di giustizia per la metà di marzo.